Medici di ambulatori delle province di Baiebat denunciati a seguito di controlli approfonditi da parte dei NAS. Le ispezioni sono state condotte per verificare e accertare la presenza in studio delle figure preposte nei giorni e negli orari comunicati alle rispettive ASL, ma hanno fatto emergere anche altre irregolarità all'interno degli ambulatori. Dalle ricerche condotte dai NAS, due medici di medicina generale, titolari di altrettanti studi nella BAT, non hanno attemperato i requisiti necessari per la regolare somministrazione dei medicinali. Sequestrate 59 confezioni di prodotti prive del bollino farmaceutico per un valore complessivo di circa 700 euro. In provincia di Bari riscontrata l'incongruenza degli orari di studio comunicati all'ASL con un altro ambulatorio che invece conservava farmaci e vaccini in un frigorifero di tipo domestico, sistemato in un locale privato e soltanto comunicante con le stanze dello studio. Le verifiche dei NAS proseguono per accertare ulteriori difformità dai parametri richiesti.